Dalla storia possono nascere altre storie, come quella di Angela Arnone, italiana di origine britannica, che per oltre un quarto di secolo ha svolto un minuzioso lavoro di ricerca sul ruolo avuto dal Royal Canadian Regiment nella sanguinosa Battaglia di Ortona, durante la campagna di liberazione dalle truppe naziste nella Seconda Guerra Mondiale. Un lungo percorso di memoria storica, quello della Arnone, che le ha valso l'assegnazione del Meritorious Service Decorations Civil Division, l'importante onoreficenza consegnatale ad Ottawa dalla Governor General Mary Simon nel corso di una cerimonia di gruppo. La medaglia è il punto finale di una strada che è stata lunga, è stata a volte anche molto dolorosa per vari motivi, ascoltando i racconti, le storie dei veterani e dei loro familiari, però è un riconoscimento di tanti anni d'amore verso queste persone. La Arnone nel tempo è diventata la memoria storica di quei fatti, incontrando i veterani sopravvissuti alla battaglia e creando con loro un legame indissolubile. Erano delle persone molto molto speciali, erano ancora abbastanza giovani per raccontare e farti capire che cosa avevano fatto da giovani per dare a noi la libertà di cui godiamo adesso. Questo è un racconto d'amore il mio verso queste persone e tutto quello che è venuto dopo. Per il Canada, Ortona rappresenta un momento fondamentale nella campagna d'Italia che non può e non deve essere dimenticato. Per l'esercito canadese, le forze armate canadesi, è il momento storico della loro storia, è stata la battaglia più importante e che li ha forgiati come soldati. Angela Arnone accoglie spesso in Italia scolaresche di giovani adolescenti canadesi, sorpresi dal conoscere la storia lontana di tanti coetanei morti per la libertà delle future generazioni. Si sono resi conto che nonostante siano passati 80 anni di relativa pace e benessere in questo nostro mondo, purtroppo non abbiamo imparato ancora la lezione che era quella che ci volevano insegnare i veterani.